Cinque immobili tra Agrigento, Porto Empedocle, Palermo e Gela, tutti riconducibili alla OPAF SRL per un valore complessivo di 5.247.000 euro. In particolare un appartamento di 12 vani in via Minerva ad Agrigento, un appartamento di 5 vani sempre in via Minerva, un complesso immobiliare destinato al centro commerciale Le Rondini, situato sulla statale 115 a Porto Empedocle, un fabbricato incompleto destinato al centro commerciale in via Venezia a Gela, un appartamento di 2 vani e un terrazzo in vicolo Morici a Palermo nella zona del Lucciardone. Ma anche 15 autoveicoli dal valore complessivo all'acquisto di 198.000 euro, gioielli e preziosi dal valore complessivo all'acquisto di 21.200 euro, 11 rapporti bancari assicurativi di investimento del valore di 65.000 euro. E' stato quantificato sulla base delle attuali rivoluzioni previste dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio in 8.700.000 euro il tesoro sequestrato a re dei supermercati Giuseppe Burgio. La divisione anticrimine della Polizia, valendosi del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, ha dato esecuzione al decreto della seconda sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento, decreto che dispone, a carico di Giuseppe Burgio, 56 anni, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni con obbligo di soggiorno, nonché la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro di beni finalizzato alla confisca. Il procedimento di prevenzione era stato avviato su proposta del questore di Agrigento nel 2016. Proprio allora il questore aveva presentato al Tribunale di Agrigento una richiesta di misura di prevenzione personale e subito dopo un'altra che aveva come oggetto la misura di carattere patrimoniale sui beni riconducibili direttamente o indirettamente a Burgio. Il questore, autorità proponente ai sensi del codice antimafia, si è avvalso degli accertamenti eseguiti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza sull'attività economica e imprenditoriale e sulle disponibilità finanziarie e patrimoniali di Burgio che aveva costruito una serie di società operanti nel settore della grande distribuzione. La proposta del questore nei confronti di Burgio era stata presentata nel 2016, ha spiegato durante una conferenza stampa l'attuale questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, periodo in cui parallelamente la Guardia di Finanza svolgeva indagini che hanno portato all'arresto dell'imprenditore e alla condanna nel 2018 per i reati fallimentari. Il Tribunale ha rinviato al questore la richiesta di ulteriori accertamenti per parametrare la pericolosità sociale per gli anni che vanno dal 2004 al 2017. La questura, avvalendosi della collaborazione del nucleo economico e finanziario della Guardia di Finanza di Agrigento, ha svolto un grande lavoro di ricostruzione di tutti i movimenti effettuati nel corso degli anni da parte dell'imprenditore Burgio. Siamo riusciti, ha detto il questore Iraci, in una serie di operazioni sospette che hanno determinato una pericolosità sociale qualificata in quanto la persona è ritenuta indiziata di intestazione fittizia di beni perché l'imprenditore si sarebbe liberato di alcuni beni allo scopo di sottrarli ai creditori commettendo una serie di reati fiscali e fallimentari e facendo sorgere dunque il sospetto che sia autore di intestazione fittizia di beni che è una delle categorie che dà la possibilità di sottoporre a sorveglianza speciale e a sequestro patrimoniale.